Ti 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 tu Cos' ma che ora è il suo horario? Eccolo Ciao Sarti cosa stai facendo? Niente, però puoi guardare le partite E' un fumare dopo un po' testa Oh! Io, ma che stai qui? Bella! 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 Ma che è? Oh, chi è qua? Ehi, prendi il telefono! Ma che è il telefono? Ma che è il telefono Ma che è il telefono? 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 Ma che è il telefono Eh, cosa stai facendo, fratello? Oh, oh Niente, sono qua Sto ammazzando... Il tempo Vero, vero, Villa de Book